Dire che sono indignata è poco, indignata, amareggiata perché mi metto nell'animo dei familiari del povero Gianluca Congiusta, di Mario suo papà che da anni, da 13 anni, ha sempre combattuto per avere giustizia e trovo inammissibile che dopo le sentenze dei primi due gradi attraverso le quali era stato individuato il responsabile, la Cassazione annulli queste sentenze addirittura senza rinvio all'appello. Mi dicevo che sono indignata perché mi metto nell'animo di questi familiari, insieme ai familiari di Gianluca Congiusta, associo anche i familiari di tutte le vittime di mafia, perché è inconcepibile che accanto al dolore che queste famiglie hanno per la perdita ingiusta del loro congiunto, non si riesca ad avere giustizia, ad avere associato a questo dolore la giustizia che è dovuta. Ci sono un sacco di familiari di vittime innocenti di mafia che dopo anni e anni non riescono ad avere giustizia, o non viene individuato il responsabile, oppure i processi che peraltro in Italia sono eccessivamente lunghi, soprattutto in questi casi io non ammetto la lunghezza di questi processi, probabilmente, forse senza probabilmente, il legislatore italiano emana delle leggi che danno facilmente accesso a dei cavilli e quindi è facile per gli avvocati difensori individuare un qualsiasi cavillo per fare scagionare i colpevoli. Allora bisogna capire che quando un processo, dopo le due fasi, appunto come il caso di Congiusta, viene completamente annullato, ribaltata la sentenza, la vittima innocente viene ulteriormente uccisa perché è chiaro che viene ulteriormente uccisa. Allora qui credo che a questo punto si debba mettere una mano sulla coscienza del legislatore italiano. Io faccio appello al legislatore, quando dico il legislatore mi rivolgo a tutti i parlamentari italiani, anche a quelli che saranno poi i ministri della giustizia dell'interno di questa legislatura, perché si mettano una mano sulla coscienza e colmino i vuoti che ci sono nella legislazione italiana affinché queste vittime innocenti di mafia abbiano giustizia, perché senza giustizia non si va da nessuna parte.